Il nostro viaggio sul Gargano ci fa fermare a Rodi Garganico, che è un ottocentro per la produzione di agrumi fin dal Medioevo. Viva Beach Club presso il Lido Marincanto. È qui che si svolge la nuova tappa del Beach Tour di Radio Selene. Viva Beach Club presso il Lido Marincanto. Viva Beach Club presso il Lido Marincanto. Viva Beach Club presso il Lido Marincanto. Il Lido Marincanto. Il Lido Marincanto. Viva Beach Club presso il Lido Marincanto. Grazie a tutti Grazie a tutti